Benvenuti alla Rassegna Stampa di mercoledì 18 novembre, siete sul canale 17 di FanoTV, questa è Occhio ai giornali, tra poco vedremo le notizie, vedremo ce ne sono alcune importanti, una in particolare perché si entra nel dettaglio di questa ordinanza che dovrebbe essere firmata oggi dal governatore Quaroli che comunque per i marchigiani andrà ad incidere in qualche modo, lo vedremo poi nel dettaglio. Ma come sempre andiamo a vedere il santo del giorno, poi le previsioni del tempo. Oggi la Chiesa festeggia la dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo, il sole sorgerà tra 10 minuti e tramonterà questo pomeriggio alle 16.41, adesso il tempo. Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature minime in diminuzione, le massime in lieve aumento, per domani cielo soleggiato, guardate che spettacolo su tutta la regione Marche, sole, sole, sole a catinelle, verrebbe da dire, ma la pioggia in realtà arriva venerdì 20 con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio nelle zone collinari e montane. E allora adesso i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico. Il titolo d'apertura dell'edizione di Pesaro Marche arriva alla strettina. Oggi il governatore Quaroli firma l'ordinanza contro gli assembramenti. Sarà in vigore da domani, massimo rigore nei luoghi pubblici, massimo rigore. Limitazioni per i mercati nella regione più ricoverati. Ieri ci sono stati intanto altri 9 decessi. E poi l'arrivo dei saturimetri. Questo è uno strumento molto utile, è importante in questo periodo averlo a casa. 3.000 saturimetri per gli over 65 saranno donati dal comune di Pesaro. E poi l'intervista che il Corriere ha realizzato con un'imprenditrice. Lei si chiama Angela Velenosi. È una dinamica imprenditrice che però da 14 giorni è positiva a casa, sicura a casa, pur di non andare all'ospedale, con cocktail di farmaci medicinali potentissime, parina, cortisone e tachipirina. Lei racconta, non riuscivo ad alzarmi dal letto, avevo la tosse e sudavo, mai avuto niente di simile. Poi da Pesaro, qui sempre dalla prima del Corriere. Project Financing, qui si parla dell'ospedale unico. È passato lo stop al nuovo ospedale. Poi da Pesaro, sempre al San Decenzio, il mercato resiste solo una bancarella su tre. E a Vallefoglia l'azienda Vitri Frigo, già in moto per conservare il futuro vaccino. Di taglio basso, conto prosciugato all'anziano, ingannato persino sull'oculo. Gli hanno fatto credere di aver comprato la tomba. La coppia si era invece intascata tutto il suo denaro. E adesso invece il resto del Carlino. Anche qui, in primo piano, la fotonotizia per il governatore Acquaroli, che si appresta a firmare questa nuova ordinanza. Caccia a chi sgarra, pronta una nuova ordinanza anti-assembramenti. Poi medici, incentivi fino a 1.400 euro. Ecco i dettagli dell'accordo tra la regione e chi lavora nei reparti Covid. Più soldi per chi va a Civitanova, all'ospedale di Civitanova. Dalla notte d'amore alla raccolta delle olive, invece la scusa, tutte le scuse per spostarsi dopo le 22. Zona arancione, pioggia di chiamate ai vigili. Non solo dopo le 22, perché la raccolta delle olive si fa soprattutto di giorno, ma comunque sapete che da un comune all'altro non ci si può spostare. Intanto 3.000 nuovi saturimetri pronti per essere regalati agli ultra 65 anni pesaresi. Poi sia la mozione 5 Stelle, ospedale unico, altro K.O. in regione, revocato il bando e il project. E poi l'anti-influenzale, il vaccino, l'esercito dei 400 all'oratorio, ma per fare appunto il vaccino contro l'influenza. E poi il Conte Pinoli a Pesaro, che dice venite a cena da me, nei miei hotel, la notte è quasi gratis. A Maceretta Feltre invece c'è Maretta per la battaglia contro la riconversione in centro Covid dell'RSA e del Santo Stefano. Sotto, di taglio basso, la storia. Da Fano, Postini per DNA, tre generazioni di portalettere, responsabili del centro di distribuzione fanese, racconta la sua predestinazione. E poi il basket, quanti positivi? VL in attesa, Reggio è ok. In arrivo la risposta dei test biancorossi, tutti negativi sul fronte emiliano. Dunque dovrebbe giocarsi, ma bisogna vedere poi cosa succederà nella squadra pesarese. Ma adesso andiamo a concentrarci un attimo, subito, su questa nuova ordinanza. Allora, il titolo del Corriere Adriatico, che è sempre molto informato sulle questioni di palazzo e allora il titolo è L'arancione non basta, niente feste casalinghe e pressing sulle scuole. Il governatore Quaroli blinda le Marche per scongiurare la zona rossa. Oggi la firma dell'ordinanza si valuta la stretta sulle lezioni di ginnastica. Allora, vediamo com'è questa nuova bozza. Chiaramente parliamo di una bozza, ancora non è uscito nulla da questo punto di vista. Ma insomma, ripeto, il Corriere è sempre ben informato su questi aspetti. Allora, le regole più stringenti, abbiamo detto, quest'ordinanza in particolare servirà per evitare assembramenti, soprattutto in luoghi pubblici o aperti al pubblico nelle adiacenze delle attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico. Insomma, comunque gli assembramenti anche fuori nei luoghi pubblici. Poi, sulle abitazioni private, chiaramente non si può fare un'ordinanza di divieto, però qui è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza, nonché di evitare feste private. Ripeto, non si può fare un'ordinanza che vieta di fare delle feste private in casa, però è fortemente, fortemente raccomandato di non farlo. Poi andiamo a vedere nelle scuole, nelle scuole del primo ciclo sono sospese le seguenti tipologie di insegnamento, educazione fisica al chiuso, lezioni di canto e lezioni di strumenti a fiato. Poi, disposizioni sul commercio, l'accesso agli esercizi di vendita di genere alimentare è consentito ad una persona per nucleo familiare. Dunque la spesa si fa, come si diceva anche qui, come si auspicava, anche qui il segnestappo qualche tempo fa, dicevamo per fare la spesa basta una persona, magari quella più robusta, quella più forte, e salva la necessità ovviamente di accompagnare persone che non sono autosufficienti oppure minori di 14 anni. Poi è riservato, è fortemente anche in questo caso raccomandato agli esercenti di riservare l'accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita ai soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell'esercizio stesso. Poi per quanto riguarda gli distributori automatici, invece, quelli che sono aperti H24 e che vendono in qualche modo, si trovano alimenti confezionati e bevande, sono aperti, resteranno aperti, a condizioni che si osservi il divieto di assembramento, il distanziamento, l'uso della mascherina e la sanificazione settimanale. Quindi queste dovrebbero essere queste le linee che dovrebbero entrare in vigore non appena il governatore firmerà l'ordinanza. Meno tamponi, meno positivi per vedere l'effetto dei divieti, ci vogliono ancora una decina di giorni. Stabile la percentuale di casi, il numero di ricoveri e dei pazienti dimessi. Ieri 8 decessi, più un'altra morte accertata. La macerata corre con i contagi. Le marche si preparano intanto a frigoriferi a meno 80 gradi, anche se poi vedremo sempre dal Corriere Adriatico, viene con un'intervista, viene un po' sfatato questo mito adesso degli 80 gradi. In realtà bastano meno 25 gradi per una decina di giorni, quindi lo vedremo poi nel dettaglio. Intanto comunque la notizia è che l'assessore Saltamartini dice ci organizziamo per stoccare le scorte e dunque le marche in questo caso giocano d'anticipo e ha dato mandato alla protezione civile delle marche e l'assessore regionale della sanità di portare avanti un'indagine di mercato per sondare la disponibilità di eventuali fornitori a mettere a disposizione del servizio sanitario regionale frigo che raggiungono i meno 80 gradi. Allora andiamo subito, facciamo un salto, se riesco a trovarla subito, eccolo qua, dalla Valle Foglia del Corriere Adriatico, gruppo vitri, motore già accesi per conservare il vaccino Covid. Ecco qua la notizia, la tecnologia dell'azienda sarà determinante nella gestione e nel trasporto a meno 25 gradi nelle marche Italia ed Europa. dunque solo l'arrivo è a meno 80 gradi, si legge in questo articolo di Gianluca Murgia nel 2019 eccetera eccetera, va bene, l'anno scorso è stato approvato l'ampliamento di 8 mila metri quadrati dell'arrivo a Colt. Ok, questa è la struttura, la struttura. Mentre sfattiamo, eccolo qua, sfattiamo il mito dei meno 80 gradi. Il vaccino della Pfizer-BioNECT, quindi di questa azienda, il primo che è stato annunciato, quello più complicato da gestire, si conserva in realtà per 10 giorni a meno 25 gradi. A temperatura ambiente dura 4-5 giorni. Le dosi, mediamente 5.000 a slot, vengono consegnate in aeroporto a meno 80 gradi, garantiti da blocchi di ghiaccio secco. Queste poi si conserveranno per 10 giorni a meno 25 gradi all'interno nelle celle frigo e altri 4-5 giorni a temperatura ambiente, spiega Roberta Vitri. E dice lei, noi produciamo motori anche per arrivare a meno 80 gradi, ma queste si utilizzano solo nei laboratori per le sperimentazioni. Quindi abbiamo capito anche già qualche cosa di più e a questo punto le marche non solo giocano d'anticipo, ma insomma in questo caso potremmo dire giochiamo pure in casa. Abbiamo l'azienda che produce questi frigo che mantengono il vaccino, che manterranno il vaccino nelle condizioni ottimali, anche appunto sotto casa. Allora, torniamo adesso indietro a ritroso nella lista della nostra rassegna, nelle pagine già organizzate. Allora, siamo qua. Test rapidi. Allora, c'è questa un'altra notizia che comunque agevola un po', ci agevola un po' nella vita di tutti i giorni. Test rapidi in farmacia, si va verso il via libera, usiamoli anche per studenti e docenti. Sì, la proposta di Biancani e Vitri all'assessore regionale Saltamartini, ma le marche risultano ancora troppo lente nel tracciamento. Intanto il bollettino parla di 68 positive a Pesaro, una vittima al San Salvatore. Intanto, a proposito di tamponi, sono circa 2200 quelli che vengono effettuati al giorno, di cui 400-450 in provincia di Pesaro Rubino. Mentre l'ipotesi in campo, per accelerare le procedure, potrebbe essere utile utilizzare i drive-point già attivi. Sull'ospedale Unico c'è un altro K.O. in regione, la revoca del bando e del project Fanizing. Nuovo asse tra maggioranza e 5 Stelle, approvata la mozione per bloccare tutte le procedure. La Ruggeri dei 5 Stelle dice giornata storica. L'assessore Baldelli non è affatto vero che Roma sostiene quel progetto. E poi a Muraglia i residenti dicono non costruite niente. Poi dalla pagina 9 invece del Corriere Adriatico, teste sierologici, farmacisti disponibili dopo l'accordo. Vogliamo conoscere meglio le linee guida da siglare con la Regione. Dunque le associazioni che raggruppano i farmacisti e quant'altro sono in prima linea e sono pronte aderire qui nella provincia di Pesorurbino. A questo basta insomma dare un'occhiata al protocollo per far diventare queste farmacie attive nello screening anche qui nella Regione Marche. Poi l'altra buona notizia che accelera un po' i tempi è che arriveranno tra poco due macchinari per tamponi più veloci. Si potranno decongestionare così gli accessi al pronto soccorso. Marche Nord potenzia e implementa i tamponi con ulteriori kit diagnostici per l'analisi rapida. Sono due i sistemi in aggiunta di cui si doterà a giorni, in via d'urgenza, Marche Nord forniti da un'azienda di Padova. E intanto il Comune di Pesoro, come abbiamo visto, abbiamo già detto anche nel giorno di ieri, regalerà 3.000 saturimetri alle farmacie e questi saturimetri, vedete questi piccoli apparecchi che si mettono al dito verranno regalati agli over 65, quelli che ne faranno richiesta. Ovviamente l'apparecchio è un valido strumento per controllare il proprio stato di salute e la fornitura arriverà a fine mese, poi si inizierà la distribuzione ai richiedenti. Adesso andiamo sulla pagina di Fano. Ieri chi ha visto il telegiornale, c'è ancora in replica, più tardi alle 11, alle 13 e 45 circa, anzi verso le 14, avrà ascoltato l'intervista di questo ristoratore, Cristian Marinelli, fanese, titolare di un ristorante molto noto, e dice la protesta di Marinelli che è l'anticarriera, c'è l'altro ristoratore, il collega che invece sta andando avanti un po' per i fatti suoi insieme a Sgarbi e in modo un po' più vemente, ma comunque punti di vista. Il ristoratore aveva tenuto aperto a pranzo, questo domenica, il ristoratore fanese, ed è stato multato. Lui anche i clienti per un totale di 6.400 l'euro, che non è proprio una passeggiata, e Marinelli ha scritto una lettera al Presidente della Repubblica, Mattarella. Intanto sulla risa al pincio, invece è stato fermato un ventenne a San Lazzaro, con un coltello si era dileguato più volte, ora rischia l'espulsione. Smog, gli sforamenti si impennano 4 in 7 giorni, qui di taglio basso sulla pagina di Fano, la pioggia ha raffreddato per fortuna il trend nero, arrivato a quota 27 su 35 sforamenti consentiti in un anno. Insomma, non è poco. Poi c'è questa storia che io ho letto, è anche molto bella, romantica, se vogliamo, affascinante. È la storia che potrete leggere sul resto del Carlino di Fano di questa mattina, e che riguarda questo giovane, Sandro Polenta, che vedete nel suo ufficio, poi qua c'è il padre, e in basso due foto del nonno Guido negli anni 40. Ora, già a colpo d'occhio avrete capito che si sta parlando di una professione, la professione è quella del portalettere. Il lavoro del portalettere non è consegnare la posta, dice, è portare un po' di noi stessi in ogni consegna. Per me è stato un onore poterlo fare, perché in ogni mio gesto c'è la storia di tutta la mia famiglia. Ora, non so se sia giusto o sbagliato, dice, scegliere il mestiere del genitore, so che io sapevo di volerlo fare, l'ho sempre voluto. E dentro c'è tutta questa storia che racconta Tiziana Petrelli questa mattina, ma è una storia bella che vi invito a leggere. Botte da orbi, invece, anche il Carlino torna sulla notizia di Crona Cadafano, ha rintracciato il fuggitivo, è un 19enne albanese che aveva preso parte alla rissa contro due fratelli fanesi. Poi la fotografia, invece, di un omaggio che il sindaco di Fano, Massimo Serio, ha voluto fare ai volontari della protezione civile di Fano. Avete reso migliore la città. Premiazione che è stata effettuata al Codma di Rosciano. Intanto l'Africa chiama, associazione fanese, 21.155 bisognosi. L'attività dell'associazione nel 2019, resa nota a pochi giorni dal compleanno dell'indimenticato Italo Nannini, un bilancio chiuso a 1,2 milioni, la metà arriva dei contributi pubblici e la Presidente Manti dice sempre pronti a nuove sfide. Intanto una donazione, qui vedete Alberto Berardi, recentemente scomparso, un ritratto di Berardi alla fondazione. Fano esclusione di capitale lega un naufragio, c'è la critica del partito del Carroccio all'esclusione di Fano come capitale della cultura, anche il Movimento 5 Stelle all'attacco dopo la bocciatura del progetto. Insomma adesso non poteva passare inosservata questa esclusione e quindi dal punto di vista politico ci sta la critica dell'opposizione chiaramente. Resiste solo una bancherella su tre, invece siamo a Pesaro, calo di clienti, ma non cediamo. Gli ambulanti del San Decenzio fanno i conti con le restrizioni meglio pochi che un mercato sospeso. Tra l'altro gli ambulanti di Pesaro hanno avuto anche purtroppo da combattere contro la natura, contro il tempo, contro il vento soprattutto, che ha complicato le cose e ha fatto saltare anche qualche territorio i mercatini si mettono in vetrina con il viaggio con il Natale e le agenzie speteranno creazioni artigianali ed è regalo. Il biodigestore invece, sempre dal Corriere, porterà più occupazione e sulla Tari farà risparmiare un milione di euro. Secondo round nella Commissione Comunale per i Vertici di Marche Multiservizi, due anni per entrare in funzione. Venite a cena da me, dal Carlino, la notte è quasi gratis, la proposta di Alessandro Marcucci Pinoli, Pinoli, che è titolare di tre hotel nella città di Pesaro per aggirare le chiusure imposte dal DPCM. L'invito è rivolto ai pesaresi. Scrive Davide Eusebi questa mattina sul giornale, dice il conte Pinoli, titolare di Alexandre Museum, Savoy e Victoria, sono tre questi alberghi, ebbene, dice, si è fatto venire un'altra idea geniale. Invita i pesaresi ad andare in vacanza a Pesaro, ovvero praticamente andando con il meccanismo che già non è nuovo, nel senso che già qualcuno l'ha messo in campo, un altro marchigiano, se non ricordo male, dalle parti di Macerata, siccome i ristoranti sono chiusi, però sono aperti quelli per chi soggiorna, anche per una notte, per notta in albergo, ecco allora probabilmente il meccanismo è lo stesso. L'unico modo utile per non licenziare il mio personale, dice, ho circa 200 dipendenti, e quindi lo fa non tanto per continuare, lo fa soprattutto per loro, e quindi insomma i pesaresi, chi vuole, possono andare a cenare in questi tre alberghi. Intanto discesa pericolosa per gli scuteristi, il Comune interviene con un rondò, sarà realizzato l'incrocio tra strada Montefeltro e case bruciate, altra rotatoria a Santa Veneranda, Ponte Valle. Gruppo Vitre, abbiamo già visto i motori già accesi per mantenere il vaccino, in arrivo le scorte a meno 25 gradi, poi da Urbino, sorpresa, l'immobiliare regge ancora, poche disdette, gli studenti restano, Urbino Living ha in gestione appartamenti per 400 universitari, i titolari dicono qui c'è più sicurezza che altrove. La pagina del Carlino invece di Urbino, sindace sanità regionale Gambini brucia i tempi, il primo cittadino di Pesero non raccoglie l'invito a convocare l'assemblea, e dunque da Urbino parte l'accordo con l'assessore Saltamartini per un incontro online. Visto che Ricci, dice Gambini, il sindaco di Urbino, visto che Ricci non si muove, invito io i colleghi al confronto, stiamo aspettando ormai da troppo tempo. Intanto a terre rovedesche, bossoli in strada, scatta l'allarme, nel mirino questa volta sono finiti i cacciatori senza regole, inoltrata la denuncia contro i gnoti, un residente di terre rovedesche ha trovato aperto il recinto dei cavalli, e il dibattito dunque si infiamma, mentre da Sant'Ippolito, dal Paese degli Scarpellini, un fumettista di successo, Enrico Pierpaoli, pubblica per Tunue, studia il Nolfi e Isia, con la passione per... E vabbè, è un rebus, insomma, scrivere i titoli in questo modo, io non ho capito, vabbè. L'unione fa la forza, del bio, terre marchigiane, sale a 12, protocollo d'intesa, Anabio, sempre più comuni aderenti, o Anabio, sempre più comuni aderenti, nasce il distretto agroalimentare, qui siamo a Pergola, sotto tir nel fango, 12 ore e una gru per liberare il gigante, guardate questa fotografia di questo tir impantanato in via Brodolini, dove l'autista si era fermato a dormire di notte, prima di riprendere poi la guida, il camion da 300 quintali ha bloccato via Brodolini, ed era diretto nel nord Italia. Poi 40 famiglie che vivono grazie alla Caritas, il coordinatore Ceramicoli fa il punto per Mondavio e Terre Roveresche, da gennaio distribuiti più di 600 pacchi alimentari, gli stranieri sono la maggioranza di chi si rivolge a noi, ma ci sono anche gli italiani. Da Senigallia la giunta sblocca i centri civici, saranno la voce dei cittadini, e poi dall'altra pagina di Senigallia, i trafficanti hanno il pollice verde, sequestrati cactus per un milione, i carabinieri forestali del nucleo CITES di Ancona, hanno bloccato oltre mille esemplari, due le denunce, estirpato il contrabbando di piante rare, sempre da Senigallia il Carlino, la forestale ha sequestrato 930 esemplari in via d'estinzione per un valore di un milione di euro, ed è stato denunciato un 43enne, Iesino. Lo sport invece, la vis sul fronte vis piove sul bagnato, la squadra è decimata, grande emergenza soprattutto a centrocampo in vista del Carpi, la differoce, dice la società, non molla, ora però i giocatori reagiscano. Mentre Arezzo Fano è un rebus, rischio rinvio concreto, per il momento sono scesi a 14, i giocatori toscani ancora positivi alla Covid, mentre è dura andare avanti, tanti club chiuderanno, l'allarme è di Walter Scavolini, senza più entrate dei botteghini, è finita per tutti. Ed è finita anche la nostra rassegna stampa, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro una buona giornata, e vi ricordo che oggi pomeriggio alle 16.30, qui sul canale 17 di Fano TV, trasmetteremo Esplorare i confini del Circolo Bianchini, il titolo è Gianni Rodari e la musica, uno spettacolo teatrale, che poi verrà riproposto sempre sul canale 17, giovedì in prima serata dopo il telegiornale, telegiornale che sarà in onda puntualmente, come sempre questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.